Two years are just like that, my head still takes me! Da Simona Mulazzani, buongiorno, bentrovati al nostro primo appuntamento con il Tg, la edizione del mattino, quella in cui ci facciamo aiutare dal nostro sito newsrimeni.it. In questo momento in home page campeggiano diverse notizie, tra cui anche quelle sportive, ma ripartiamo dalla cronaca, da quanto è avvenuto sabato sera sulla Statale 16. Un sabato sera tragico sulle strade riminesi, erano le 21.30, quando sulla Statale 16, all'altezza del negozio Mondo Convenienza, un'auto, Volkswagen Tiguan, ha investito e ucciso sul colpo una ragazza di 31 anni, Bruna Cavalli, che stava camminando a bordo strada. Al suo fianco anche un'altra giovane, una ventunella indiana, rimasta ferita nell'impatto. La macchina, alla guida c'era un uomo sulla Sessantina, partito da Bellaria, viaggiava in direzione Ravenna-Ancona, quando in un tratto buio ha travolto le due ragazze. Purtroppo per la 31enne, che era di origine albanese, ma era stata adottata piccolissima da una famiglia riminese, viveva a Rimini da tantissimi anni dove lavorava per l'azienda di famiglia, non c'è stato nulla da fare. Quando i sanitari sono arrivati sul luogo dell'incidente, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'altra ragazza è stata immediatamente soccorsa dai sanitari e trasportata ad urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. Per lei una frattura del femore ne avrà per 30 giorni. Sarà molto importante anche ascoltare la sua testimonianza per andare a ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente. Parliamo anche di politica. Nicola Marcello, presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Nicola Marcello, unico candidato e nuovo presidente provinciale del partito. Sono stati quasi 500 votanti a chiusura del congresso che si è svolto ieri. Marcello ha presentato un'articolata mozione che ha toccato diversi punti, partendo dal contesto politico nazionale e spiegando come Fratelli d'Italia punti ad essere anche a livello locale forza di maggioranza. Per farlo, ha spiegato, dovrà divulgare le linee strategiche e le azioni portate avanti dal governo Meloni tramite un'attività di opposizione radicale, costruttiva e costante. Fratelli d'Italia lavorerà per radicarsi ulteriormente sul territorio con la creazione di circoli territoriali e responsabili nei vari comuni. A livello tematico, centrali, temi della sicurezza urbana e della legalità. Si è parlato poi anche di alcune battaglie come ad esempio quello per il terzo casello autostradale, la nuova statale 258 Marecchiesi, il ripensamento del tratto numero 1 della nuova statale 16 alternativa alla chiusura del ponte di Tiberio. Strategiche anche istruzione, università e cultura. Insieme al Presidente sono stati eletti nel Consiglio Direttivo Sara Borghese, Alessio Napoleone, Nicoletta Gagliani, Lara Cecchini, Maria Nicoletta De Cristofaro, Costanzo Merla, Daniele Genghini, Alessandro Pierotti e Maurizio Fabri. Sempre dalla prima pagina del nostro sito parliamo anche di carcere. Resta complicata la situazione nella casa circondariale di Rimini, nonostante la macchina burocratica abbia iniziato a muoversi per la risoluzione delle criticità che però al momento restano tutte. Lo rilevano i radicali Rimini che sono tornati a visitare la struttura con una delegazione composta anche da membri del gruppo civico Cattolica Futura e del collettivo Spazio Popolare Anna Campbell e da comuni cittadini nell'ambito dell'iniziativa Devi Vedere. La casa circondariale dei casetti sconta una drammatica carenza di personale con circa 40 agenti di polizia penitenziaria che mancano all'appello. Un deficit che comporta carichi di lavoro pesanti con turni di 8 ore a fronte delle 6 previste e la rinuncia a 5 giorni di ferie. Situazione complicata anche per i detenuti, lavatrici comuni non ce ne sono, ci sono soltanto 3 docce funzionanti per una popolazione di 30 detenuti e i bagni sono in condizioni igienico-sanitarie assolutamente critiche. A questo si aggiungono la ristrettezza delle celle e l'eccessiva densità abitativa che ne deriva. Una situazione totalmente inaccettabile, la definiscono i radicali, buona invece la parte rieducativa con un calendario piuttosto fitto di iniziative e il costruttivo rapporto di collaborazione con l'associazione Avis. Parliamo anche di quanto è accaduto ad Alessandro Meluzzi ricoverato al Bufalini dopo un malore nel suo studio a Rimini. Meluzzi, 68 anni, è ricoverato in rianimazione all'ospedale Bufalini di Cesena e ancora la progno si è riservata dopo un malore, un'ischemia che lo ha colpito nel pomeriggio di sabato mentre si trovava nel suo studio a Rimini. Sarebbe stato appunto colpito da un'ischemia e sarebbe stato sottoposta ad una delicata operazione. Meluzzi, padre napoletano e madre riminese, porta il cognome di quest'ultima dopo la separazione dei genitori e è stato a lungo anche parlamentare della Repubblica, un'esperienza che si era chiusa nel 2001. Tantissimi i messaggi di vicinanza al noto psichiatra che sono arrivati anche sui social con la famiglia che ha chiesto di pregare per lui. E ora andiamo nella sala congressi del Grand Hotel di Rimini dove sabato si è svolta la premiazione dello Iano Planco d'Oro questo premio istituito nel 2017 dall'Ordine dei Medici della provincia di Rimini il premio quest'anno è stato assegnato al dottor Matteo Ravaioli Matteo Ravaioli è responsabile del dipartimento per i trapianti all'istituto universitario Sant'Orsola di Bologna lui stesso ha eseguito oltre mille tarpianti in particolare di fegato e di rene quest'ultimo anche da vivente. Lo abbiamo intervistato e con lui ascoltiamo anche il presidente dell'Ordine dei Medici Maurizio Grossi Un onore come riminese e un onore come medico essere valorizzato e riconosciuto dai propri colleghi è sicuramente un riconoscimento di altissimo livello che apprezzo moltissimo anche le motivazioni che hanno esposto mi onorano il fatto di mettere al primo posto i pazienti soprattutto nei casi in cui ci sono interventi complessi per i quali è difficile arrivare al risultato è molto dispendioso come energie a 360 gradi l'attività dei trapianti è un'attività che innanzitutto parte dalla donazione e quindi da famiglie che fanno un gesto bellissimo in un momento drammatico e permettono ad altre persone una nuova vita è un orgoglio poter dire che noi siamo in una regione virtuosa in cui il numero delle donazioni è molto aumentato il numero dei trapianti è molto aumentato è un lavoro di squadra, è un lavoro di equip il singolo individuo è importante ma non può fare la differenza siamo di fronte sempre a nuove sfide non ci possiamo fermare di fronte alla situazione non curabile o al caso diciamo che anzi queste situazioni devono rappresentare degli stimoli per cercare di far crescere sempre di più il nostro sistema la ricerca però ha dei costi i finanziamenti sono molto importanti perché per fare cose di grande livello ci vogliono dei progetti complessi e articolati in cui spesso vanno anche coinvolti più centri e più professionalità il nostro obiettivo è quello di premiare chi abbina la scienza al cuore all'etica e alla deontologia e questa sera devo dire che il professor Ravaioli incarna in pieno questa figura per noi ideale a cui tutti i medici devono fare il riferimento metterci il cuore, metterci la scienza metterci tantissima cura, tantissima dolcezza nell'affrontare la persona che ci chiede aiuto e ora torniamo a parlare dei toni molti accesi che riguardano lo scontro sull'area di Via Bassi l'area dell'ex Questura le dichiarazioni dei capogruppo di maggioranza non vanno giù ad Ariminum sviluppo immobiliare così dopo la commissione di venerdì arriva l'ennesima nota firmata questa volta da Piero Aicardi che è amministratore unico di Asi e da Marco Dadalto, coordinatore del progetto Rimini Life alle accuse di arroganza dei capogruppo la società risponde per le rime dicendo non accettiamo più questi toni se è vera la volontà a condividere un progetto di rigenerazione non si può usare questo livello di comunicazione dice Aicardi mentre Dadalto richiama i consiglieri di maggioranza ad un maggiore senso di responsabilità intanto resta confermato l'incontro tra Asi e Comune del prossimo 6 dicembre ma le premesse non lasciano molti margini di speranza e ora andiamo ad una bella inaugurazione che si è svolta sabato perché alla presenza del vescovo Monsignor Nicolò Anseme e dell'assessore Cristian Gianfreda c'è stato il taglio del nastro per la casa natale del campo lavoro missionario siamo in via Giovanni XXIII a Rimini si tratta di uno spazio di informazione, di confronto ma anche di una bella opportunità per effettuare acquisti solidali in vista delle festività casa natale resterà aperta tutti i giorni festivi compresi fino al 9 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 ci sono tanti oggetti ma soprattutto c'è un significato importante relativo a questo spazio noi siamo andati all'inaugurazione e allora vediamo un po' che cosa si trova all'interno di casa natale casa natale è diventato un luogo atteso dai riminesi uno spazio accogliente dove poter acquistare ad offerta libera libri, giocattoli, bigiotteria, abbigliamento articoli per la casa e tanti altri oggetti donati dagli amici del campo lavoro ma non è solo un modo per sostenere missionari riminesi nel mondo e famiglie in difficoltà ma anche per riflettere sugli stili di vita dall'oggettistica all'abbigliamento a quadri o comunque ad oggetti vari a su pellettili poi per chi se ne intende si possono anche trovare delle cose di vintage che possono anche essere utili per qualche collezionista sicuramente siccome viene proposto una spesa ad offerta libera con dei prezzi indicativi ma giusto perché non è possibile fare diversamente credo che la gente che viene qui e che dà questa offerta spesso ne dà anche di più perché sa benissimo che tutto quello che viene ricavato in questa circostanza sarà poi destinato al finanziamento di progetti nel terzo mondo consideriamo che l'anno scorso con tutto quello che il campo lavoro ha fatto sono stati finanziati diversi progetti per un totale di 236 mila euro io credo che questo sia un bel biglietto da visita per la nostra città per la nostra associazione ma soprattutto per tutti coloro che ricevono il frutto di questo impegno che tantissimi volontari mettono durante tutto l'anno quello che ci auguriamo naturalmente che tante persone ci vengano a trovare e che utilizzino il nostro spazio un po' per incontrarci per capire anche quali sono le finalità del campo lavoro e per sostenere quello che cerchiamo di fare in questi anni cioè non soltanto una pratica di autofinanziamento ma l'idea di lavorare tutti insieme per promuovere un'economia circolare ovvero per cercare di fare in modo che gli oggetti che ci vengono donati e che molto spesso vengono come dire salvati dal fatto di essere buttati proprio gettati via possano allungare il loro ciclo di vita quindi diciamo fare dei regali solidali è già molto importante ma utilizzare anche materiale usato ben riposto ben riorganizzato ha un senso ancora più forte perché ci consente di come dire contrastare quella logica del consumo che tanto poi ci affligge in questo momento e ora e ora apriamo l'ampia pagina sportiva partendo dal calcio un buon punto quello conquistato da Rimini ieri sul campo del Pesaro con una partita che è finita 1 a 1 il servizio del nostro Roberto Bonfantini dal derby di Coppa Italia con il Cesena la partita di campionato con la Vispesaro altra rivale storica per i biancorossi di Truise in striscia positiva da 8 partite tra campionato e Coppa i marchigiani hanno ritrovato la vittoria nell'ultimo turno in casa della Lucchese dopo 3 paregge e 3 sconfitte contando anche la sfida di Coppa con il Cesena in casa romagnola ha sentito Fanari Capanni e Bobré la partita Silla prova di involarsi sulla fascia sinistra Pietrangeli lo rallenta ma il rimpallo è vinto dal numero 9 di casa che serve Nina il cui tiro deviato da Meghelaitis si impenne scavalca Colombi dopo un minuto e 17 secondi Vispesaro in vantaggio al dodicesimo dopo un lancio lungo di Gigli Cernigoi raccogliere le spinte corte della difesa locale calcia Polverino si oppone al ventiseiesimo Silla per Di Paola che si sistema il pallone dal destro al sinistro e va alla battuta Colombi respinge con difficoltà Silla tenta il tapin ma non trova lo specchio al trentacinquesimo De Vrais avanza a destra poi sterza e va alla conclusione nessun problema per Colombi che blocca comodamente al trentottesimo all'angella in avanti morra lotta la sfera arriva sui piedi di Lepri che fa partire un cross calibrato per il numero 9 girata di testa e gran riflesso di Polverino al quarantatresimo su gli sviluppi di un corner traversone di Di Paola Tonucci in tuffo di testa Colombi respinge con una mano si va all'intervallo con la Vispesor avanti 1-0 al diciottesimo della ripresa Silla parte da metà campo pala al piede è in trenare ma si allunga il pallone e Colombi in uscita a basso lo può anticipare al ventitresimo ottavo corner per la Vis dalla bandirina De Vrais del carro di testa gran sinistro di Di Paola pallone che centra la traversa e finisce fuori al trentaduesimo punizione dal limite dell'area per il Rimini Polverino chiede aiuto alla traversa sulla staffilata di Lamesta ma nulla può sul tapine di testa due passi di Morra tenuto in gioco dal coccodrillo Mamona ottavo sigilo in campionato per il bomber dei Biancorossi al trentasettesimo del carro allarga per Leoncini che serve Lamesta il destro giro dal vertice dell'area fuori dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio Vispesor e Rimini si dividono la posta 1-1 se allunga 7 la striscia positiva dei ragazzi di Troise 9 gare se al campionato aggiungiamo la Coppa e mercoledì il recupero ad Olbia un punto che fa morale e dà continuità così il mister nel dopo partita sentiamolo per come l'abbiamo raggiunto chiaramente è un punto che fa morale fa classifica e dà continuità poi nel nel discorso della partita chiaramente è stata condizionata nell'immediato da uno svantaggio con questa palla che si è impennata e ci ha un po' presi di sprovvista insieme ad un campo ad una superficie non è un alibi ma abbiamo condotto tutto il primo tempo con troppi errori tecnici con qualche giocatore insomma che è andato sotto sotto il proprio livello ma considerando impegni ravvicinati era un po' era un po' nell'aria poi non siamo stati secondo me bravi nelle occasioni importanti che abbiamo avuto il primo tempo per cercare di pareggiare la partita ed avere più tempo a disposizione quindi poi col passare del tempo è chiaro che sono partite che rischi di prendere il secondo gol perché ci sono state situazioni soprattutto sui piazzati quella traversa che potevano tagliarci le gambe e allora ci portiamo a casa un punto che fa morale e come l'abbiamo raggiunto perché ci abbiamo creduto con merito e che dobbiamo dare continuità dobbiamo dare continuità mercoledì perché ci aspetta subito un'altra partita fondamentale e dal calcio al basket per parlare finalmente di una vittoria di RBR ottenuta in casa contro l'Assigieco Piacenza per 83 a 78 il servizio la riviera banca basket Rimini torna alla vittoria dopo un mese in una sfida vibrante contro Assigieco Piacenza tra le mura amiche interrompendo una serie di 5 sconfitte consecutive il match inizia in salita per la RBR con Piacenza che dopo una fase di equilibrio prende il largo con un parziale di 6 a 0 firmato da Querci Skins e Miller Rimini però la ribalta grazie alle triple prima di Grande e poi di Tomassini sulla sirena del primo quarto per il 20-15 nel secondo quarto Rimini scappa sul più 9 con i punti di Masciadri prima e Scarponi poi Piacenza però torna sotto con la tripla di Serpilli Anumba sale in cattedra con la tripla del 32-28 ma Piacenza recupera prima con la schiacciata di Skins e poi con la tripla di Miller 34 pari il quarto si conclude con la tripla di Masciadri ma Bonaccini tiene in scia i suoi per il 37-36 in apertura di terzo periodo Rimini scatenata con la schiacciata di Johnson e due triple di Grande per il complessivo più 12 dei Biancorossi in Gran Spolvero Bonaccini riduce il parziale a meno 7 ma un'altra tripla di Masciadri corona il più 13 il quarto si conclude con una tripla di Veronesi che riduce a meno 10 il distacco di Piacenza Botta è risposta con le triple di Miller e Tomassini in avvio di quarto quarto Piacenza si rialza ma poi tripla di Grande sul ferro rimbalzo di Anumba e più 8 Rimini tripla incredibile di Miller per il 72-67 Veronesi fa 2 su 2 dalla Lunetta per il meno 4 Piacenza Marx riporta avanti Rimini 75-69 tripla di Anumba ma la tripla del meno 3 di Sabatini rimette in scia Piacenza finale sofferto con Grande che fa 1 su 2 dai liberi più preciso Tomassini 2 su 2 per l'81-78 e decisiva la giocata difensiva di Marx che consente a Rimini di incamerare il definitivo successo ancora con Tomassini dalla Lunetta la RBR tornerà in campo giovedì 7 dicembre alle 20.30 in casa della Fortitudo Bologna e parliamo anche di Volley una vittoria di squadra ottenuta con il carattere la determinazione e la voglia di fare risultato un successo conquistato per 3-1 dall'OMAG MT contro l'Ermea Olbia da parte di tutto il gruppo che grazie anche al supporto della panchina ha saputo soffrire quando era in svantaggio e poi vincere e così è arrivata l'ottava vittoria in un palazzetto difficile per tutti il Geopalace seppure non sia stata la migliore partita della stagione l'OMAG MT ha saputo ben interpretare il match e mettere in crisi il gioco di una squadra ostica come quella sarda con questi tre punti le marignanesi si riprendono il secondo posto in classifica superando Cremona battuta dalla capolista macerata MVP di giornate Serena Ortolani con 15 punti e il 48% in attacco prima di lasciare il nostro sito grazie alla grafica andiamo a vedere anche alcuni risultati di calcio nelle serie minori in particolare in serie D il Carpi vince nettamente in casa contro la San Maurese per 4 a 0 e poi abbiamo il Victor San Marino che perde in casa 3 a 1 con il Forlì mentre per quello che riguarda il Girone F andiamo a vedere il risultato dello United Riccione che arriva ad avere un risultato di parità nei confronti della Matese e a questo punto lasciamo il nostro sito newsrimini.it per andare a dare uno sguardo al traffico in questo momento sulle strade riminesi una situazione diciamo similare a tutti i lunedì mattina a quest'ora traffico sulla Statale 16 traffico su via Flaminia ma anche insomma in tutte le direttrici interne che conducono verso la città per quello che riguarda il traffico autostradale invece tutto scorre regolarmente nel tratto riminese della 14 ma blocchi e anche code sia in direzione nord dopo Bologna e in direzione sud dopo Ancona addirittura nella zona del Parmigiano viene indicata anche la possibilità di neve andiamo a chiudere con le previsioni del tempo lo facciamo guardando la grafica di Arpa dell'Emilia Romagna per la giornata di oggi progressivo aumento della nuvolosità nel corso della mattinata con precipitazioni deboli e intermittenti che interesseranno in mattinata le province occidentali della nostra regione e nel corso del pomeriggio sera tenderanno ad estendersi sul resto della regione le precipitazioni saranno nevose sul settore centro-occidentale con quota neve che interesserà nel corso della sera la pianura piacentina e parmense con fenomeni deboli intensificazione delle precipitazioni nel corso delle ore notturne con estensione delle precipitazioni nevose fino alle pianure centrali questa è la situazione a livello meteorologico noi così arriviamo al termine di questo nostro primo TG tra pochi minuti ci ritroviamo nello studio di tempo reale per iniziare una nuova settimana insieme grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona giornata e di una buona settimana di una buona giornata